Fare turismo, incontri, dibattiti su come orientare i giovani nel mondo lavorativo del turismo si è concluso presso l'Ateneo Romano dell'Università Europea. Le aziende turistiche, le catene alberghiere, gli hotel sono alla ricerca di tante figure e qui mettiamo in campo un'opportunità per 250 figure. Nell'Università Europea ha sede un corso di laurea perché sceglie di lavorare nel turismo. Sì, per noi è un giorno fondamentale in quanto non soltanto orienta gli studenti ma questo incontro anche con il mercato e con gli operatori del mercato ci consente di calibrare la nostra offerta formativa e quindi anche dare delle skills che il mercato richiede ai nostri studenti sulla base delle espresse richieste che vengono dai diretti operatori. È molto importante che imparino a utilizzare in modo efficace le tecnologie che magari abbiamo a disposizione tutti i giorni. Noi proprio come corso di studi siamo molto orientati a cercare di far capire che con il telefonino con cui mandi i video ai tuoi amici o cerchi magari una location per uscire questa sera puoi produrre contenuti che poi servano a promuovere un'offerta turistica delle opportunità. Per le istituzioni queste occasioni sono importanti per orientare i giovani in un settore che ha la ricerca di figure specifiche. La formazione è il punto di partenza per erogare anche servizi di qualità nel nostro paese che è particolarmente attrattivo. Le ragazze e ragazzi che studiano, si formano sia a livello scolastico ma anche a livello universitario devono avere uno sbocco che sia a livello delle loro attese.